Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari in apertura la politica, discussione aperta nel centrodestra nazionale sulla possibilità di concedere il terzo mandato ai sindaci e ai governatori di regione se il Parlamento dovesse dare l'ok il sindaco De Caro potrebbe decidere di candidarsi alle prossime elezioni comunali, vediamo Una decisione che rischia di spaccare il centrodestra ma potrebbe avere ricadute importanti anche sulla situazione politica barese La questione terzo mandato tiene banco in Parlamento, discussione aperta tra le forze di maggioranza per decidere se concedere un'altra possibilità a sindaci o governatori che hanno già amministrato città o regioni per dieci anni Se la Lega spinge Forza Italia e Fratelli d'Italia sembrano tirare il freno a mano Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha dichiarato che il tema potrebbe essere esaminato con più calma dopo le elezioni europee La decisione arriverà la prossima settimana, inutile specificare che se il Parlamento dovesse concedere l'ok La figura di De Caro rischierebbe di oscurare Vito Leccese e Michele Laforgia, nomi più gettonati per sostituire il sindaco uscente Intanto prosegue il dialogo tra le forze politiche del centro-sinistra Le posizioni tra i due protagonisti della contesa restano distanti, come dimostrano gli appuntamenti annunciati per i prossimi giorni La Forgia parteciperà a due incontri tra venerdì e sabato, discutendo della città nuova e del fenomeno dei neonazismi Mentre il Partito Democratico è al lavoro per preparare la convention di domenica 25 febbraio allo Showville che vedrà la partecipazione di Leccese e Michele Emiliano e anche Antonio De Caro Il primo cittadino barese racconterà i suoi dieci anni alla guida di Bari Un'esperienza che, se la questione terzo mandato dovesse andare in porto in Parlamento, potrebbe non essere ancora giunta al termine Ed è sbarcata oggi al porto di Bari la nave Geo Barents 121 migranti a bordo salvati Da tre naufragi nel mar Mediterraneo a bordo anche due donne decedute Il servizio di Roberto Maggi I medici legali sono in attesa dalla banchina del Terminal Crociere La collaudata macchina dei soccorsi si occuperà di tutto il resto Sono arrivate anche due donne senza vita a bordo della Geo Barents La nave di medici senza frontiere che alle 12.30 di questo mercoledì ha attraccato al porto di Bari dopo aver eseguito tre distinti salvataggi portando in salvo 121 persone Purtroppo, come detto, la traversata della speranza si è conclusa in maniera tragica per due migranti La prima è stata trovata senza vita in un gommone con a bordo oltre 60 persone a cui era stato prestato soccorso in acque internazionali Con lei c'era anche un parente La seconda, sempre parte di questo gruppo, è deceduta invece a bordo nonostante i soccorsi Arrivati sulla nave poi ci sono anche 15 minori Tre migranti, numerosi feriti, con bruciature causate anche dalla miscela tra acqua di mare e benzina Fulvia Conte, coordinatrice dei soccorsi di medici senza frontiere ha spiegato in un video pubblicato sui social dell'organizzazione la situazione Dalla nottata di sabato la Geo Barents ha effettuato tre diverse operazioni di soccorso difficilissime e drammatiche La prima di un gommone in difficoltà in acque internazionali L'operazione durante la notte è stata estremamente difficile anche a causa delle condizioni di maltempo Il gommone si trovava in onde di oltre 3 metri Il team di soccorso è riuscito a portare in salvo 68 persone con delle operazioni molto difficili e pericolose Moltissime persone hanno bruciature sul corpo a causa della miscela tra l'acqua di mare e la benzina Persone fisicamente e psicologicamente traumatizzate Alcune di loro hanno perso parenti, alcune di loro hanno perso persone in mare E adesso invece passiamo alle notizie provenienti dal nostro sito www.telebari.it Collegato con noi c'è Italo 5 Palmi Ciao Italo, buonasera Buonasera Giuseppe, allora dalla notte di venerdì 23 febbraio ci torno a viaggiare su una corsia sulla Stadale 16 Nel tratto compreso tra gli svincoli di Via Caldarola e Iapigia A comunicarlo e l'ANAS Il restringimento della careggiata con la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni È necessario per consentire il proseguimento dei lavori di riqualificazione dell'itinerario Bari-Brindisi-Lecce Secondo quanto comunicato i lavori termineranno il prossimo 10 marzo E andiamo avanti La Capitaneria di Porto di Bari ha sequestrato 35 kg di ricci di mare pari a circa 1000 esemplari E 40 kg di bianchetto in quanto sprovvisti di requisiti di tracciabilità I prodotti ittici erano su un'auto condotta da un 54enne barese che è stato sanzionato I ricci sono stati rilasciati in mare perché ancora vivi L'operazione della Guardia Costiera è finalizzata al rispetto della norma che vieta la pesca del riccio di mare nelle acque pugliesi E chiudiamo In sella le loro moto, tutte prive di targa, sono state intercettate dai carabinieri forestali Mentre facevano motocross nel parco dell'Alta Murgia Per questo tre ragazzi sono stati sanzionati e le moto sono state sottoposte a fermo amministrativo per tre mesi Il motocross è considerato attività illecita perché il rumore generato può disturbare la fauna locale Mentre il passaggio degli pneumatici comporta modifiche sul terreno Causando danni all'ecosistema forestale e alle sue componenti naturali Bene, con questo è tutto per oggi, a te buona serata E grazie, grazie al nostro Italo 5 Palmi Noi invece ora ci occupiamo del cantiere che sta interessando via Caldarola E sta creando numerosi disagi ai cittadini I rappresentanti delle scuole hanno chiesto all'amministrazione comunale di programmare meglio i nuovi interventi Intanto è distribuzione che sta appunto intervenendo sul manto stradale E ha assicurato che gli interventi termineranno entro la fine di marzo Auto incolonnate provenienti da ogni direzione Colpi di clacson accompagnano il tragitto di chi cerca di uscire dall'ingorgo E' la situazione che si verifica ogni mattina in via Caldarola Nei pressi della rotatoria che collega via Magna Grecia al ponte Padre Pio Traffico in tilt sistematicamente intorno alle 8, orario di punta A causare disagi è il cantiere che sta interessando via Ristosseno Gli operai di distribuzione sono al lavoro per sostituire i cavi a media e bassa tensione L'arteria che collega il quartiere Iapigia a via Le Capruzzi è quindi chiusa al traffico Un problema non indifferente per chi percorre via Caldarola Lavoratori pendolari ma anche genitori che accompagnano i propri figli a scuola I rappresentanti degli istituti scolastici del quartiere chiedono all'amministrazione comunale Una migliore programmazione dei lavori nei prossimi mesi I lavori sono localizzati in una zona dove ci sono 5 scuole Il mercato di Santa Scolastica, la sede da multiservizi e la parrocchia Nelle ore di uscita e di entrata degli alunni dalle scuole i disagi sono enormi Pertanto chiediamo per ulteriori interventi che coinvolgeranno zone dove ci sono edifici scolastici Di farli durante il periodo di sospensione delle attività didattiche Intanto E-Distribuzione fa sapere che il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine di marzo L'azienda sta cercando di terminare la sostituzione dei cavi nel minor tempo possibile Così da ridurre i disagi alla circolazione stradale Ricordiamo, conclude Distribuzione, che si tratta di interventi che miglioreranno il servizio dell'intera comunità barese E nasce il coordinamento regionale degli enti di servizio civile universale E sono infatti sempre di più i giovani che scelgono di impegnarsi nel volontariato Il servizio di Alessandra Bucci Sono sempre più numerosi i ragazzi che scelgono il servizio civile Un'occasione per crescere e coltivare nuove esperienze Per questo nasce il coordinamento regionale degli enti di servizio civile universale operanti in Puglia L'obiettivo è fare rete e rendere la misura più vicina alla partecipazione attiva dei giovani Stiamo lavorando sulla certificazione delle competenze Non a caso abbiamo deciso di investire anche sul servizio civile regionale Per ricostruire un protagonismo dei ragazzi Che dialoghino direttamente con i loro coetanei per fare l'informa giovani Lavoreremo anche molto sul tema della sostenibilità del digitale Per fare in modo che si generi un riallaccio tra le generazioni E che i ragazzi non vedano questo percorso come solo un percorso di chi non trova il lavoro Ma di chi vuole fare un'esperienza, un'esperienza importante E se siamo sicuri può essere utile per il loro futuro Sono 14 gli enti firmatari di servizio civile Una grande opportunità, lo dicono anche i numeri Negli ultimi tre anni gli operatori volontari sono stati quasi 12.000 Sì, al momento sono 14 enti firmatari che hanno sottoscritto il protocollo di intesa Al quale si sono aggiunte altre due reti di enti di servizio civile operanti in Puglia Per un totale di oltre 400 sedi accreditate e 1.300 enti accoglienza e 1.300 sedi accreditate Tutte operanti in regione Puglia Tra i firmatari è anche il centro di servizio al volontariato San Nicola Il nostro ente è al servizio del volontariato Quindi ci stiamo con tutte e due le gambe dentro Crediamo molto nella possibilità per i ragazzi di fare un'esperienza che sia veramente un'esperienza di vita Ne hanno bisogno, hanno bisogno di maestri, hanno bisogno di guide Forma Edilbari compie 60 anni Oggi la celebrazione del traguardo alla presenza di autorità e scuole Una lunga storia di successo iniziata nel 1963 Migliaia di operatori formati nel campo dell'edilizia Forma Edilbari compie 60 anni Un traguardo importante per l'ente che guarda già le prossime sfide del futuro 60 anni di formazione, di grande impegno sul territorio Di formazione di operai e sensibilità alla sicurezza Poi molti dicono che mio padre forse non avrebbe mai lasciato il Forma Se non fossi venuto io a prendere in mano questo ente Grazie anche alla collaborazione del Lancia e di tutto il sistema bilaterale Che sostiene e rafforza questo ente Si parte con l'esperienza dei 60 anni e si guarda al futuro in che modo? Sicuramente con una formazione puntata sulla digitalizzazione Sull'ampliamento degli spazi Sull'utilizzo di tutte quelle nuove tecnologie Che migliorano l'esecuzione dei lavori in ambito edile Sempre nel rispetto della sicurezza Oggi nella sede barese è la celebrazione del sessantennale Con autorità e studenti delle scuole per geometri Un'esperienza, quella di Forma ed il che si consolida anno dopo anno I numeri parlano chiaro Dal 2004 ad oggi sono stati erogati oltre 2000 corsi di formazione La maggior parte ha riguardato la sicurezza Una crescita importante grazie anche ai cantieri scuola Laboratori attrezzati, sei aule didattiche, infrastrutture logistiche di ultima generazione La formazione significa sicurezza, lavorare in sicurezza E soprattutto significa anche riqualificare non soltanto il personale dipendente Ma anche le imprese L'impresa che fa fare ai suoi dipendenti formazione e sicurezza È un'impresa sana, è un'impresa che non incorrerà mai in quegli incidenti E c'è tempo fino a domenica 25 febbraio Per inviare la richiesta di partecipazione al Fuori Bifest Le chiamate sono rivolte agli operatori commerciali e culturali della città Interessate a organizzare eventi a tema durante il Festival del Cinema Barese Il servizio è di Maricla Pastore Torna in città il Bari International Film e TV Festival E anche la possibilità di trasformare le attività commerciali in un set cinematografico Per il terzo anno consecutivo infatti Sarà organizzato il cartellone del Fuori Bifest Un'iniziativa pensata per animare le strade, le piazze, i cinema, gli spazi culturali E i negozi cittadini in concomitanza con il Festival C'è tempo fino a domenica 25 febbraio Per rispondere alle call promosse dal Comune di Bari Rivolte agli operatori commerciali e culturali Interessati a organizzare eventi a tema cinematografico All'interno dei propri locali nel corso della quindicesima edizione del Bifest In programma dal 16 al 23 marzo È nata come una scommessa, afferma l'assessora comunale alle attività produttive Carla Palone Che in due anni è riuscita a coinvolgere decine di operatori commerciali Nella scelta di mettersi in gioco per animare le strade e le piazze della città Negli otto giorni del Festival Far conoscere le proprie attività E ad attrarre tanti ipotetici consumatori Un'opportunità di come gli attori della città Possano contribuire a far rivivere la magia del cinema Anche in luoghi diversi da quelli tradizionalmente dedicati alla cultura Conclude Esposizioni, incontri, lezio, proiezioni, allestimenti, concerti e mostre Purché a tema cinematografico Dovranno essere organizzati in autonomia dagli operatori Con l'utilizzo di spazi e mezzi propri Provvedendo alle necessarie autorizzazioni Questi requisiti per partecipare all'iniziativa Non è previsto alcun contributo economico da parte dell'amministrazione comunale Ricorda il Comune in una nota E noi cambiamo argomento perché la Will Puglia scende in piazza Dopo il Consiglio regionale di questa mattina In cui è stato approvato all'unanimità Un documento che riguarda la sicurezza sul lavoro Ascoltiamo insieme le parole del segretario Gianni Ricci Siamo qui in piazza Dopo aver celebrato il nostro Consiglio regionale Aver approvato un documento all'unanimità Che impegna tutte le strutture della Will Quelle regionali, quelle territoriali Affinché questo stilitizio, queste stragi Che ormai quotidianamente avvengono Parliamo di oltre mille morti sul lavoro nel 2023 Basta, è il momento di dire basta La Will sta facendo proposte concrete Vuole impegnare le amministrazioni locali Con una serie di iniziative, per esempio quelle di mettere fuori E di non far partecipare le aziende a bandi pubblici Che hanno violato le norme sulla sicurezza A breve partiranno richieste di incontro ai vari sindaci del territorio Al Presidente della Regione, a tutti gli enti appaltanti Chiediamo anche una buona dose di coraggio alle parti datoriali Affinché le stesse escludano dalle proprie associazioni Tutte quelle imprese che hanno violato negli ultimi anni Le norme sulla sicurezza Sono proposte concrete E' il momento di dire basta A esprimere solo cordoglio Che comunque va alle famiglie che quotidianamente perdono I propri cari sul posto di lavoro Ma è il momento di iniziare a fare richieste e azioni concrete E noi ci spostiamo a Cellammare Dove è stata riqualificata la palestra comunale Ieri una cerimonia per l'inaugurazione della struttura Un finanziamento regionale da 580 mila euro Con un cofinanziamento di 60 mila euro del comune Grazie ai quali sono stati eseguiti lavori di riqualificazione Efficientamento energetico e ammodernamento della struttura Il comune di Cellammare inaugura la palestra coperta Riaperta dopo i lavori rimessi a disposizione Sia degli alunni dell'istituto comprensivo Nicola Ronchi Che agli atleti delle associazioni sportive Ridoniamo alla stessa comunità scolastica e alle associazioni locali Un luogo di socializzazione E un luogo dove praticare attività sportiva Praticare attività sportiva significa anche fare del bene alla salute Significa fare attività motoria La struttura era stata candidata a un bando della vecchia programmazione POR 2014-2020 per l'efficientamento energetico dei luoghi pubblici In tal senso gli interventi compiuti Come per esempio l'installazione di pannelli fotovoltaici Il riscaldamento dell'acqua attraverso un impianto solare termico Rappresentano un simbolo della nuova concezione delle opere pubbliche Secondo la programmazione regionale Uno degli ultimi interventi realizzati qui a Cellammare Con oltre mezzo milione di euro della regione Puglia E una quota di cofinanziamento da parte del comune In cui si è ristrutturata, si è riefficientata una palestra Con un intervento moderno Sulle nuove programmazioni si sta lavorando con l'assessore delle noci E il vicepresidente Raffaele Piemontese Proprio sugli accumulatori di energia In modo tale da creare quelle comunità energetiche Che serviranno nelle comunità dove si è investito già nei pannelli fotovoltaici Grande partecipazione alla presentazione del nuovo libro di Gianrico Gianrico, caro figlio L'orizzonte della notte Che si è tenuta negli spazi della Feltrinelli di Bari Vediamo Più che una presentazione Un festeggiamento quello che si è tenuto alla Feltrinelli di Bari Per l'uscita dell'ultimo romanzo della serie Dell'avvocato Guido Guerrieri L'orizzonte della notte Come mai ha aspettato cinque anni per farlo tornare in libreria? In generale passano diversi anni fra un romanzo e l'altro con questo protagonista Per una ragione molto semplice Questa non è una serie, alcuni dicono serie legittimamente Ma per me si tratta di una specie di macro romanzo aperto In cui ogni singolo libro è un capitolo È un macro romanzo aperto Una biografia di un personaggio Si fa quando c'è da raccontare uno sviluppo nella vita di questo personaggio Non quando semplicemente c'è un plot C'è una trama processuale o investigativa E quindi bisogna aspettare che arrivi quel momento di sviluppo Molto di questo personaggio, non solo in questo romanzo È dato dalla dualità fra una sua dimensione esterna Professionale di grande forza, solidità, affidabilità È un avvocato bravo, un avvocato di successo Io non volevo raccontare l'avvocato scalcagnato di certi film O certe storie all'americana Volevo raccontare il contrasto fra il successo professionale E l'estrema fragilità personale Che dà, credo, spessore al personaggio E forse è una delle ragioni per cui è simpatico a molti lettori Noi cambiamo argomento perché sono stati presentati oggi pomeriggio Al Cursal Santa Lucia di Bari I risultati del percorso di monitoraggio partecipativo sui luoghi della memoria Che ha visto protagonisti i 17 progetti attivati lo scorso anno 17 progetti e un laboratorio partecipativo Uno speciale viaggio nella memoria promosso dalla Regione Puglia Sono stati presentati i risultati dei percorsi di monitoraggio partecipativo Sui luoghi della memoria le attività daranno vita ad un programma biennale Previsto proprio dalla legge regionale Rendere accessibili gli archivi pubblici Raccontare alcuni dei passaggi chiave del Novecento E recuperare le storie di vita del passato Sono soltanto alcune delle azioni messe in campo dai partecipanti al progetto Molti dei quali di giovane età Sicuramente la partecipazione La partecipazione è il fatto che sia stato fatto un programma diffuso su tutta la Regione Il coinvolgimento dei laboratori e dei ragazzi soprattutto Che hanno lavorato con il Dipartimento per individuare azioni mirate Proprio alla valorizzazione della memoria Le attività che si sono svolte ad aprile a dicembre 2023 Hanno coinvolto 15 testimoni della memoria Tra storici e esperti in progetti culturali, artisti e curatori Sono state promosse dal Teatro Pubblico Pugliese Innanzitutto vengono fuori 17 proposte presentate e valorizzate da Regione Puglia Da Teatro Pubblico Pugliese Che sono per così dire la mappa concettuale della nostra memoria E questo è il risultato più straordinario che noi potevamo avere Dal territorio regionale pugliese Che mette insieme appunto quelle che sono da una parte le emergenze della memoria E quindi della storia della nostra regione E noi ci spostiamo invece nelle altre province pugliesi Partiamo da Andria dove questa mattina si è insediato il nuovo questore Si tratta di Alfredo Fabrocini Già a profondo conoscitore del territorio Che è stato a capo della Mobile di Napoli Ed ha lavorato a Foggia e da Bari Per diverso tempo Lo ha intervistato Massimo Pillera Un detective che poi, diciamolo all'americana Arriva in questura ed è a capo della questura Per arrivare a fare il questore come io intenderò fare il questore Mi serviva avere un passato da investigatore Cercare di arginare la criminalità a diverse latitudini in tutto il paese Per arrivare qui pronto ad avere una visione più completa Più ampia, più dedicata a questa provincia Agli uomini delle forze dell'ordine sarebbe sempre auspicabile averne di più Perché io credo che, diciamo, ognuno di noi potrebbe avere un poliziotto Vorrebbe avere un poliziotto vicino casa per sentirsi più sicuro Faremo in modo che quelle che ci sono lavorino al meglio Faremo in modo che in qualche modo le nostre forze si rinforzino In qualche modo anche con la cittadinanza Con le persone per bene Con quelle che sono il vero supporto alle istituzioni Cercheremo di integrare il più possibile Abbiamo avuto assicurazioni in questo Nel frattempo, con le forze che abbiamo in campo, faremo del nostro meglio Noi abbiamo necessità che in qualche modo Non sia solo la polizia ad avvicinarsi al cittadino Come cerchiamo di fare e come facciamo da anni Ma che sia il cittadino, che sia la cittadinanza Che si avvicini a noi E questo legame tra di noi e la cittadinanza Passa attraverso voi Voi che raccontate quello che facciamo Voi che raccontate quello che succede in questa città E un voi che va esteso anche a chi vi legge Che capisce da quale parte stare Per dare il giusto supporto E noi invece ci spostiamo in Salento Perché a Milano si è svolta una sfilata di moda A sostegno del territorio colpito Dalla xylella fastidiosa Il servizio di Fabio Serino Nel cuore di Milano La moda si è unita in un gesto di solidarietà Senza precedenti per sostenere il Salento Che ha subito le devastanti conseguenze Della xylella Un flagello che ha distrutto milioni di ulivi E ha messo a dura prova l'economia E l'identità di un intero territorio La sfilata è diventata un'occasione Per riflettere sulle sfide ambientali ed economiche Nonché per dimostrare come la moda Possa essere uno strumento di sensibilizzazione E sostegno concreto In situazioni di crisi L'evento si è svolto nel suggestivo scenario Del chiostro di San Barnab a Milano In occasione di Mad Mood Fashion Week Da Lecce, Mariana Miceli Che di professione lavora nel campo della moda Ha portato con i mecenati della cultura Un albero simbolo intorno al quale Ha fatto sfilare oltre 100 modelle Provenienti da 10 paesi L'evento ha raccolto una variegata rappresentanza Dell'industria della moda italiana Dai grandi nome ai talenti emergenti Mettendo in mostra le loro creazioni Trasmettendo un messaggio di solidarietà e speranza La sfilata quindi non è solo Un'esposizione di abiti e accessori di tendenza Ma un'opportunità per raccontare Storie di resilienza e rinascita Nei giorni che hanno preceduto l'evento È stato firmato un protocollo di intesa Tra Anna Fendi e il distretto agroalimentare Di qualità Ionico Salentino La stilista inoltre ha firmato Una selezione esclusiva di olio prodotto In Puglia contenuto in bottiglia Realizzate nella tipica ceramica di Grottaglie In un connubio inedito tra food e fashion E intanto continua ad Alberobello Il percorso sulla legalità Ospiti in città Mario Mori e Giuseppe De Donno C'era per noi Francesco Russo Protagonisti di una storia italiana Che ha atteso molti anni per venire alla luce Il generale dell'arma dei carabinieri Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno Autori del libro La Verità Sul dossier mafia Palti Presentato ad Alberobello E consegnato ai lettori Per fare chiarezza sulla presunta trattativa Stato-mafia per cui hanno subito Un processo ventennale Uscendone pienamente assolti Dopo tre gradi di giudizio E anni di accuse infondate Assalti mediatici Entrambi nel rosso Si sono distinti per la lotta al terrorismo E alla mafia nei primi anni 90 Portando alla cattura di Totò Riina Da loro l'invito a non abbassare la guardia Ovviamente capire e seguire lo sviluppo E la genesi anche dell'organizzazione criminale La mafia non è più diciamo Un'espressione tipicamente militare È ormai una forma quasi di filosofia Di cultura Che invade campi che una volta Non erano propri dell'organizzazione E diventano di difficile individuazione Se non la si segue con attenzione Uomini di fiducia dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Mori e De Donno Guardano con ottimismo alle nuove generazioni Nonostante le difficoltà Bisogna comunque credere nello Stato E bisogna sempre Soprattutto ai ragazzi Insegnare che un conto sono le istituzioni Un conto sono le persone che a volte le impersonifichino Non bisogna fare mai questa confusione E credere nei propri sogni Alla fine la battaglia sarà dura Ma la verità viene sempre a galla E ci spostiamo a Brindisi Dove le sigle sindacali CGL Will Sono scese in piazza Chiedendo al prefetto di ascoltare Le loro proposte Per cercare di tamponare Il problema delle morti sul lavoro Ce ne parla Riccardo Celli Esseri umani non numeri Morti sul lavoro e non semplici morti E con queste convinzioni Che CGL e Will di Brindisi Sano scese in piazza questa mattina Davanti alla sede della prefettura In un settino organizzato Che ha coinvolto circa 50 lavoratori Le sigle sindacali hanno chiesto al prefetto Di ascoltare le loro ragioni e le loro proposte Che a quanto dicono Devono essere immediatamente accolte ed attuate Per evitare altri morti innocenti Chiediamo soprattutto più rispetto E più dignità per i lavoratori Nelle misure della modifica Del codice degli appalti innanzitutto Che è una riforma che ha consentito Al sistema degli appalti pubblici Anche privati Di liberalizzare le catene di subappalti E in questo caso ovviamente Nei lavori poi si fa risparmiare Man mano che si subappalta E si crea una sorta di concorrenza sleale Dove le imprese che si aggiudono i lavori Onde risparmiare E cercano di risparmiare Di farlo sulla vella dei lavoratori Bene, è tutto per questa edizione Del nostro telegiornale Grazie per averci seguito E buon proseguimento di serata Amici di Trebimento Un saluto e ben ritrovati A questo aggiornamento Con le previsioni per la giornata di giovedì Vediamo come la sinortica europea Ci mostra l'avanzata Di questa ampia perturbazione Che scalfierà l'aria di alta pressione Sud Italia Dando via a una lunga fase Di tempo più instabile Che proseguirà anche durante il weekend Per quanto riguarda La nuvolosità attesa Nella giornata di giovedì Avremo appunto già Un contesto piuttosto nuvoloso Al nord Su gran parte del centro Mentre soltanto al sud Resisterà qualche schiarita Per quanto riguarda le precipitazioni Sarà una giornata ancora in prevalenza asciutta Al centro-sud Mentre le prime piogge Interesseranno le Alpi Il nord-ovest E la Liguria E poi entro sera Anche le regioni del nord-est Per quanto riguarda la previsione Dunque ci aspetta una giornata di giovedì Piuttosto nuvolosa O molto nuvolosa Al nord E anche su parte del centro Specialmente il settore tirrenico Prime piogge su Liguria Valpadana Alpi e Prealpi E anche delle nevicate in montagna Oltre i 1200-1500 metri Dunque caleranno le temperature massime al nord Mentre il contesto rimarrà sempre piuttosto Mita al centro-sud Con valori intorno ai 15-20 gradi Ma per tutti i dettagli C'è come di consueto La nuova app di Trebi Meteo Grazie a tutti